Sindaco Alberto Pompizzi, domani domenica 15 aprile l'appuntamento a Sant'Omero è con la mostra mercato, orto, giardino e non solo, adesione da parte del comune al progetto per rilanciare anche il turismo commerciale. Sperando un bel tempo perché chiaramente la mostra viene all'aperto e la faremo davanti al campo sportivo, allo stadio comunale, c'è una vasta zona con un vasto parcheggio lungo la 259 e quindi sarà facilmente raggiungibile. È una mostra che ci cerca di far rapportare un po' di persone e cercare di rimettere in movimento questa benedetta economia che stende a ripartire. Quali saranno gli stand presenti? Dell'obbistica e dei prodotti da giardinaggio e anche piante e così via, ci sarà un po' tutto quello che è un po' i prodotti che avvicinano alle famiglie in pratica per i giardini, per gli orti, per gli animali, ci dovrebbero essere pure degli animali e quindi speriamo che ci siano tanti bambini e intanto tanti cittadini dalla Val Vibrata e anche di Pineto, di Silvi e così via.